Dal gioco delle bocce allo svago dei bambini nei giardini di Palazzo Tagliaferro, passando per l'applauditissimo concerto dei Black Beat. Ieri sera Andorra ha offerto un intrattenimento a tutto tondo. Il clou della serata è stato senza dubbio il concerto soul del noto gruppo imperiese che ha inchiodato il pubblico per due ore. I Black Beat nati ufficialmente nel 2013 sono Cinzia Gregorutti, voce solista, Daniel Carenzo ai tastieri, Rino Nicolosi, Piano Elettrico, Antonello Sbarra, Chitarra Elettrica, Mauro Verda Basso, Franco Bianco Batteria, Nicola Vassallo e Sara Mazzone Coristi. In questi anni di concerti si sono adattati a svariate situazioni, dai piccoli pub alle piazze pubbliche, passando per i treatri e affermandosi sempre più grazie a musiche e canzoni in grado di conquistare giovani e meno giovani, regalando atmosfere quasi magiche. uestra Grazie a tutti, mamma e Grazie a tutti.